Rarità incredibile D445 Suppongo stia andando a Stazione Savona Per andare ad agganciarsi alle 2464 più i due carri soccorso Fortuna incredibile Intanto da notare la bellissima sorpresa che sto inquadrando ora Purtroppo demolenda La pilota Casaralta da anni che non se ne vede una Ma va da anni Due anni, un anno e mezzo che non se ne vede una Intanto da notare la D445 Che sembrerebbe che si stia fermando Ferma suppongo in attesa del segnale che diventi verde Spiegato il motivo dalla quale non partiva Il jazz Appena partito dalla stazione di Savona Per 20 miglia Magnifico Eccola lì affrontare il curvone Ciao Ciao Grazie a tutti